Un aumento sempre più alto di famiglie del territorio terramano si rivolgono alla spesa solidale Teramo per avere un piccolo aiuto. Ad oggi sono 61 nuclei a ricevere una cassetta carica di beni alimentari e nonne che i solidali beneficiari preparano presso gli spazi della Casa del Popolo a Teramo. L'aumento di richieste di aiuto ha bisogno però di un ulteriore sforzo collettivo. Per questo motivo fino a venerdì 3 settembre sarà possibile donare presso i locali dell'associazione Beni o anche Fondi per aiutare questa iniziativa ad andare avanti. Ad oggi siamo arrivati a 61 famiglie, siamo partiti nel mese di marzo con circa 35 nuclei e mese dopo mese aumentano le richieste. Grazie alla solidarietà dei terramani ma anche di gente da voriteramo che dona sul nostro conto riusciamo a riempire questa cassetta con beni alimentari di prima necessità. Cassette che riescono a dare una piccola risposta al grande bisogno che vivono le persone in questo momento di grave crisi. La cosa che preoccupa è che il numero è aumentato nel tempo. Esatto e questo indica un po' quello che sta succedendo in Italia. Mentre qualcuno parla di ripresa la realtà è ben diversa quindi persone italiane e stranieri si ritrovano a vivere la stessa condizione, bussano alla nostra porta e noi con questo piccolo gesto cerchiamo di dare il massimo. Siamo contenti della risposta dei terramani, logicamente aumentando le richieste è sempre più impegnativo riuscire a riempire queste cassette ma confidiamo anche in questo mese in una grande risposta. Cerchiamo anche di studiare e di iniziare a fare un percorso anche per quella che è la situazione dei profughi dell'Afghanistan. A breve sicuramente dopo che riusciremo ad attivare i canali per arrivare ai campi profughi cercheremo di fare delle raccolte anche per queste persone che vivono una crisi superiore molto più importante forse. Facciamo l'invito a partecipare visto che ci sono dei giorni a disposizione. Esattamente da oggi mercoledì 1 settembre fino a venerdì questo dalle 10 alle 13, da 17 alle 20 ci troverete qui nella Casa del Popolo in via Nazario Sauro numero 52 quindi vi aspettiamo e ringraziamo quanti parteciperanno.